CINCODI! Amici! PORCOLO! Ti salvo di voi, di una mia donna e verona! Ma soprattutto di voi! Cosa è che devo larmi nelle figlie dell'esercito nazionale? Tutti devono chiamare giovani, anziani, studenti impiegati! Cosa è che devo larmi nelle figlie dell'esercito nazionale? Cosa è che non è incinta, non è in causa, chi so, chi sa? Prenditi, chissà, abbiamo dei suoi, altri non ti importa nè, se nanzi un focalismo, non ti importa nè, Nella patria della nostra giovinezza, camminiamo come viaggiatore di passaggi. Da solo, devo fare tutto da solo, anche quando tutto sembra perduto, devo ripuntarmi in piedi e ripartire. Vengono in trincea, fanno le visibile, ma guardano le cose con occhio da cortigiano, non con il proprio occhio appunto, sospettoso, rabbioso. Oh, quegli altri sentimenti, malaticce e fiacchi! Vengano i mesi degli anni, non mi ruveranno più. Sono talmente solo, talmente privo di speranze, che posso guardare dritto davanti a me senza timore. La vita che mi ha portato avanti per tutti questi anni è ancora nei miei occhi, nelle mie mani. E finché dura, si cercherà da sola la strada per andare avanti. Lo consente o no, quell'essere disperato che dentro me urla ancora che ci si tratta da solo a tutti. Tant'o sospettato che ci si tratta da solo a tutti. Questa è stata da solo a tutti. Grazie.